Roma Info Mobilità, informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma. Un servizio realizzato da Roma Servizi per la Mobilità e Luce Verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane. Novità da oggi per la rete di bus di Trigoria, alcune modifiche interessano i percorsi delle linee 707 e 722. C'è inoltre il debutto della nuova 795, un collegamento ad esclusivo servizio del quartiere. Cambio di percorso anche per la linea C13 in strada al sabato e nei festivi. Causa lavori via dell'Azzorra è chiusa nel tratto compreso tra via Risti dei Carabelli e via Antonio Zotti. Le linee E05B e E05B scolastica da via Casana deviano in via Carabelli, via delle Repubbliche Marinare, Corso Duca di Genova, via Forgerini, via dell'Idroscalo e via dell'Appagliatore. Istituite due fermate provvisoria in via dell'Appagliatore all'altezza e a fronte del Civico 3, temporaneamente soppresse cinque fermate.